Romiano, ma poi è un casino, scusate. Anzi, presento subito a un amico che non ha bisogno di presentazione. Interventino, inter... ciao, ciao. Io, ragazzi, non sono abituato a stare sul palco, sono abituato a stare sotto, però devo dirvi una cosa. Come l'associazione, attualmente, ha scelto che praticamente eravamo al funerale della cultura con Gisello e Gisella, Gisello e Gisella con la Santi, ed è lì che abbiamo partorito, non senza trauma e la placenta, la scelta, che poi è la scelta di tutti me, che è Nicchè, che poi va un casino della Madonna e vi manda in sublimazione il corpo e la mente, e che poi, voglio dire, noi di mente ce ne intendiamo, no? daltonicamente, e soprattutto diamo un occhio che riguarda la mentalità, la mentalità, la mentalità, che poi, voglio dire, è una cosa molto personale, no? Per cui, per cui, ragazzi, a quanto pare, chi aveva voglia di niente si è stata a casa, per cui, se voi avete voglia, siete venuti a sentire il Nicchè il più oltre, no? Per cui, ragazzi, fatemi capire, vi sta piacere il Nicchè? Tre risposte! Tre risposte! O sì, o no, o boh! Un applauso, amicissimo! Miralton!